KITOS Ha ricevuto la scatola, vero? Voglio farvi un'offerta Se premerete il pulsante accadranno due cose Primo, da qualche parte del mondo una persona che voi non conoscete morirà Secondo, voi riceverete in pagamento la somma di un milione di dollari Avete 24 ore Avete controllato quella pagina? Salve Norma, spero che lui non giochi al detective Io ho molti dipendenti Oddio Hanno schiacciato il bottone sbagliato E se diciamo di no? Ci sono sempre delle conseguenze Ti mette alla prova Dobbiamo salvare tuo figlio o tua moglie morirà E come morirà? La ucciderai tu Che vuoi fare Norma? La ucciderai tu La ucciderai tu Grazie.